Aia! Dov'è cavolo? Oh! Dov'è cavolo è? Da dio pugno! E gli do due? Ne manca uno! Ho finito le ammo pure lui! Di resto? Nooo! Sì! I'm cold Fogli tra il muro, fogli tra il muro, vieni, vieni Fogli, fogli, fogli Due, due, vai, vai, vai Nooo! Easy! Easy! Che bastardica Chiamare la zia, io dico Ah, è una zia a Roma? E' come la sera della fessa Che soffoli Quando va a ballare con la goscia Fa così Ti prego mi clippate questa cosa Oh! 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 Che fai Che fai Che fai Che fai Che ah 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 uno condizionista ah 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 In realtà mi hai preso Lui che hai fatto beschanta non vuoi essere amici non vuoi essere amici non vuoi essere amici non vuoi essere amici ok 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 vuoi vuoi riprenderti per essere amici amici comunque è buono come ho fatto mi sono tipo colpo e non me lo ho spiegato aspetta che c'è il nostro video non vuoi non vuoi allora dove è arrivato qui non vuoi essere amici oof 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 è finito per favore oh no 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 vieni 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 no lascia perdere tu non hai idea tu non hai idea non vuoi sapere fidati no 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 Mamma. 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 Grazie a tutti.